Ciao lettrice e lettori, bentornati su Miss Fiction Books e oggi non parliamo di libri oggi non parleremo di libri perché anche questo me l'avete chiesto voi, non è colpa mia, ve lo giuro però mi fa piacere, ovviamente oggi volevo portarvi un video che si chiama 20 songs book tag no, no, book tag, tag perché fondamentalmente mi chiedete di parlare di più di musica e non so come farlo, nel senso che è complesso oltre che nei preferiti non so bene insomma sto cercando dei modi comunque perché non farlo con un tag che è la cosa più semplice di tutti in questo tag si sbrodola tramite 20 canzoni un po' di una serie diversa di cose e insomma mi fa piacere perché così posso condividere con voi un sacco di musica bellissima ma anche non bellissima però insomma che a me piace e quindi insomma perché non iniziare così spero che il video vi piaccia insomma spero che questo possa essere di interesse anche per chi non è così appassionato di musica e anzi che possa essere per voi un modo per magari avvicinarsi a cose che non avevate mai pensato potessero interessarvi o piacervi o in qualche modo proprio ne ignoravate l'esistenza che è normale perché il mondo della musica è complesso e ancora più vasto che i libri ovviamente essendo la più disorganizzata di booktube e non solo ok le ho segnate tutte sul cellulare perché non mi ricordo le domande che ora vi leggerò piano piano in modo che così rispondiamo man mano purtroppo non posso mettervi nel video i brani ovviamente perché se no si va a come si dice a infringere come si dice in italiano infringement comunque infringimento del copyright non è giusto e quindi insomma partiamo con le cose facili e quindi niente ogni tanto ahimè per voi io canterò perché davanti a una telecamera non mi vergogno poi ne riparleremo in fase di montaggio però va bene comunque prima domanda è qual è la tua canzone preferita e qual è la tua canzone preferita del momento allora la mia canzone preferita è Tonight Tonight degli Smashing Pumpkins che sono la mia band preferita non so neanche cioè è proprio quella che da sempre a me smuove tutte le cose canzone preferita del momento è Chlorine dei 21 Pilots perché proprio quando parte sippin' on tray Chlorine boh è un gran pezzo mi piace non mi dispiace è quello che sto ascoltando di più ultimamente prossima domanda invece è what song do you hate the most? quale canzone odi di più? allora diciamo che tendenzialmente a me tutta la musica italiana da classifica fa schifo proprio cioè non voglio neanche cercare di edulcolorare la questione a me non piace è tutto ciò che trovo vecchio sorpassato mi annoia dirò una cosa che sarà molto impopolare nell'internet in generale nel mondo a me ultimo rappresenta questo però faccio un altro coming out che è ben peggiore per tantissimi invece che seguono il rock ed altri tipi di musica c'è una band che io non sopporto non ho mai sopportato e che tutti i pezzi mi irritano tranne uno che è carino no due due li sopporto il resto duro che non mi piacciono proprio non li sopporto che sono gli oasis I'm sorry se vi piacciono a me fa un gran piacere per voi non c'è nulla di male ovviamente anzi la musica è ancora più soggettiva che i libri probabilmente perché proprio c'ha delle cose che ti pigliano non ti pigliano non ci puoi fare niente ecco io gli oasis proprio quindi dico Wonderwall degli oasis che quando parte io muoio dentro tre quale canzone ti rende triste ecco io potrei scrivere l'enciclopedia delle canzoni tristi ci ho costruito un impero ok no a parte gli scherzi nel senso che io amo le canzoni tristi proprio sono una cosa che mi rincuora moltissimo la canzone triste ho delle playlist infinite solo di canzoni triste per citarvene qualcuno però e vi direi Maps degli yeah 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 che in realtà non è così triste cioè è triste e io non riesco a non piangere ogni volta che la sento ed è un pezzo vecchissimo e che io tutte le volte comunque c'ho il lacrimuccio poi Nothing Arrives dei villagers che è un pezzo che io amo però veramente straziante perché poi dice io aspettavo una serie di cose aspettavo aspettavo insomma parla di un'attesa di un cioè voler aspettare che alcune cose si realizzino ma nulla arriva mai alla fine non raggiungi mai un po' tipo distruggere la ritorica dei sogni in 321 e è bellissimo il pezzo soprattutto la versione acustica che hanno suonato per una sessione di Spotify veramente struggente a proposito di pezzi struggenti uno dei miei pezzi preferiti anche di questa band cioè dei block party che sono una delle mie band preferite è Plans e tutte le volte che parte Plans vabbè metà dei pezzi dei block party a me stimolano un po' il piantino quindi è molto facile poi altra canzone triste che io amo proprio alla follia è Five of Five degli Arctic Monkeys che sono una delle mie band preferite vabbè tanto tutto quello che dirò sarà sono tra le mie band preferite perché è normale io ho un sacco di preferiti nel mondo della musica ah poi anche mettiamoci anche Sorrow The National cioè come non citare Numbers dei Toaters che è veramente tanto per non citare di nuovo gli Smashing Pumpkins che in questo tag mi sembra che questo taglet vedrete un sacco di volte Desire 1979 Tristessa non vado avanti Crazy For You degli Slow Dive vuoi non metterla vabbè adesso mi buona l'è perché andiamo avanti è veramente diventa l'enciclopedia delle canzoni triste comunque giù trovate le mie playlist che se avete voglia di piantini ce n'è un sacco quarta domanda chiede quale canzone ti ricorda qualcuno allora qua io vi cito I Still Remember dei Block Party perché mi ricorda Mr. Fiction visto che non lo cito mai sembra che io non abbia neanche un marito ogni tanto lo tiriamo fuori e sì cinque quale canzone ti rende felice e io qua ce ne sono tante devo dire ce ne sono tante probabilmente quella che proprio se ci penso mi faccio pigliare bene sempre è Rebellion Lies degli Arctic Monkeys degli Arcade Fire perché non so a me piglia sempre bene mi sento meglio quando c'è su pezzo every time you close your eyes lie lie cioè ti piglia bene per forza cioè vabbè sei quale canzone ti ricorda un momento che è così generico che io ho pensato ai momenti soprattutto dove io sono incazzata verso qualcun altro generico non solo dell'internet ed è Big Mouth Strikes Again che è uno dei miei pezzi preferiti degli Spitz e Big Mouth la adoro perché è un pezzo così cattivo così amaro così preso male col mondo che povera mi fa sempre ridere comunque anche con l'ironia un po' di Morrissey prima che diventasse un palo no forse lo era già vabbè comunque amo adoro questo pezzo mi ricorda di tante persone che si meriterebbero questa canzone appiccicata in fronte 7 di quale canzone ti ricordi perfettamente il testo ecco io ho un super potere nella vita inutile totalmente inutile che è quello di imparare a una velocità impressionante qualsiasi canzone ci la sento mezza volta in radio la so a memoria il giorno dopo io so degli albumi interi sono un'enciclopedia di testi quindi questo super potere inutile nella vita non esiste più Sarabanda quindi non mi farà neanche vincere qualcosa però devo dirvi che non ha senso ma è bene io imparo tantissimi testi anche quelli che non voglio e anche quelli che non mi interessano e permangono nel mio cervello per anni 8 quale canzone ti fa ballare allora io ho due pezzi che indipendentemente da dove mi trovo cosa sto facendo eccetera eccetera inizio a muovermi perché è impossibile rimanere ferma soprattutto su il secondo il primo è humming dei falls che non so forse che anche mi ricorda un intero momento un periodo della mia vita dove uscivo tanto cioè non che ora non esco però uscivo di più per andare magari a divertirmi eccetera e non lo so humming dei falls per me rappresenta quello è impossibile stare ferme con sto pezzo cioè ok e l'altro che non si chiama come lo chiamo io ma io non posso chiamarlo in un altro modo che è il get it on dei t-rex e in qualsiasi momento parta qualsiasi situazione io sia inizio a fare questo movimento cioè è proprio impossibile non farlo perché quando parte get it on vabbè basta sembro scema però ragazzi veramente io ho purtroppo questo questo problema che quando ci sono pezzi che io amo conosco cioè io proprio se sto parlando con qualcuno se sto facendo qualcosa giuro il mio cervello si stacca e ci ho provato tante volte a non farlo ma non riesco a rimanere concentrata è un problema questo nove quale canzone ti fa dormire allora dormire però non nel senso che mi annoia canzone che penso che sia perfetta per andare verso è just like honey dei jesus and mary chain che trovo che sia così dolce così perfetta poi ti just like honey allora 10 10 10 10 quale canzone tu canti segretamente allora io segretamente non canto nulla nel senso che non ho vergogna nel dire che la canto e non la canto ok anche perché in fondo ho una solidissima cultura pop e trash che non vuol dire che pop e trash coincidono ma di tante cose insomma e devo dire che ad esempio penso che in pochi ma in realtà nella mia vita reale lo sanno tutti ma in pochi magari sull'internet sanno che ho una grandissima passione per Rihanna e il suo pezzo che mi piace di più è We Found Love che è in collaborazione con Calvin Harris e per me è il pezzo che c'è quando parte mi vedete tipo allo stadio per fare i cori sto prendendo tutta la mia dignità a fare sto tag comunque 11 a quale canzone ti relazioni do you relate the most ti relazioni di più o pensi di ritrovarti ci di più ve ne cito due una è proprio della mia cantante preferita che è Suxy and the Banshee cioè è Suxy però Suxy and the Banshee è la band che è Cascade e diciamo perché è una canzone che fondamentalmente parla di amore nella maniera forse meno non so come dire meno romantica possibile però dice love like liquid falling laughing in Cascades e prima dice tears in Cascades cioè insomma l'amore è qualcosa che comunque ha dei lati molto positivi ma anche dei lati molto negativi comunque è una cosa su cui c'è che ti smuove da un lato però devi accettare sia il lato giusto che il lato sbagliato insomma il lato buono e il lato cattivo di tutti i sentimenti soprattutto quelli così forti così potenti ecco e Suxy io la amo la venero la adoro e ce l'ho anche tatuata addosso quindi insomma la rispetto tantissimo e altro pezzo che direi che mi definisce probabilmente è Guns of Brixton dei Clash perché è un pezzo che inizia dicendo questa cosa quando è un pezzo che va contestualizzato nelle rivolte che succedevano a Brixton che è un quartiere di Londra nel periodo in cui viene scritto eccetera eccetera dove la gente le botte le prendeva le manifestazioni eccetera eccetera era un periodo di tensione sociale molto alto e chiaramente però c'era bisogno anche di attivismo c'era bisogno sempre di più di partecipazione sociale a determinate questioni che venivano poste alla politica e che venivano completamente ignorate e non fraintendete quello che sto per dire ovviamente però inizia dicendo una frase veramente molto forte che è when they'll knock at your door quando busseranno alla tua porta how are you gonna come come uscirai with your hands in the hair or the trigger of the gun ovvero con le mani sopra la testa o caricherai la pistola fondamentalmente questo che è ovviamente un modo molto estremo però per dire aspetterai che arriverà quel momento e ti arrenderai completamente oppure cercherai di cambiare le cose prima cercherai di reagire cercherai di fare qualcosa che è un po' cioè i clash in generale sono una delle band che proprio mi ha cresciuta mi ha tirata su e mi riconosco molto in questo loro attivismo e loro sono forse una delle ultime band che era veramente così politicizzata per alcune questioni non so come dire è un pezzo che veramente per quanto sia estremista nel modo in cui pone alcune questioni cerca di scuotere un po' le coscienze sull'attivismo e sulla partecipazione ad alcune questioni che riguardano tutti ecco penso che sia uno dei pezzi che mi definisce sicuramente quell'intro di basso io penso sia una delle cose più belle che esista nella musica comunque tipo nello stesso tag abbiamo messo i clash su xy e rianna va bene posto allora quale canzone amavi ma ora non ami più allora visto che non so come rispondere a questa domanda io la ribalto la domanda è quale canzone odiavi ma invece ora ami perché non giuro non mi viene in mente nessuna canzone che amavo e ora odio è raro di solito magari quelle alla radio le sopporto poi dopo un po' non ne posso più però non è una che amo quindi comunque canzone che prima odiavo e poi amavo che è molto più facile a me succede spesso e vi cito e saranno felice alcune delle mie amiche adored degli stone roses che ve lo giuro mi è stata sulle balle per anni è un po' di tempo che l'ascolto spesso perché alla fine mi piace perché c'è quel finale mi gasa qual è la tua canzone preferita dal tuo album preferito allora mia canzone preferita dal mio album preferito che è Simon's Dream degli Smashing Pumpkins ve l'ho detto che l'avremmo citati spesso è Mayonnaise perché penso allora è insieme a Tonight Tonight la mia canzone preferita degli Smashing ma proprio Mayonnaise penso che sia il pezzo più bello della storia della musica è un'affermazione forte e non so se ne sono del tutto convinta però per me per alcuni versi lo è per me poi non parlo in linea generale potete di sentire totalmente però la amo molto 14 quale canzone sai suonare con uno strumento allora io suono la batteria detto e non detto in vari video però è ovvio che non tutti lo possiate sapere sono però la più grande incapace alla batteria quindi non è che sono questo gran fenomeno ho iniziato 5 anni fa quindi abbiate pazienza e cosa suoniamo so fare un po' di cose la cosa che mi diverte di più è fare Cherry Bomb delle Runway perché è veramente un pezzo che ha la batteria e ti diverte un casino ho una band è una band della domenica quindi insomma non prendetela seriamente però insomma mi diverte suonare un casino ma un sacco proprio avevo sempre detto che prima di morire volevo imparare a suonare la batteria e 5 anni fa mi sono data una mossa ecco 15 quale canzone ami cantare in pubblico allora io in pubblico non canto perché è una cosa che mi imbarazza moltissimo diciamo che è una cosa che mi diverte però noi come con la mia band facciamo una cover di Piangi con me dei Rokes e devo dire che quando io faccio i cori e quando canto il ritornello anzi la strofa più che il ritornello mi diverte un casino perché il pezzo dice se ti fanno un po' soffrire perdonali perché non sanno cosa fanno io soffro come te se il tuo sorriso triste non li ha convinti mai tu non li devi odiare perdonali se puoi qualcuno deve amare e lo faremo noi e qua entro insomma mi gaso ok basta ragazzi la dignità dopo questo video è sparita piangi con me ok basta 16 quale canzone ami mettere mentre stai guidando allora visto che io mi annoio un casino a guidare però lo devo fare tutti i giorni ahimè ho la mia playlist che purtroppo che qua una canzone da scegliere è impossibile quindi ho la mia playlist che si chiama 16 and best che non vuol dire niente vuol dire tipo cioè ciò che riguarda i miei 16 anni riguarda tutto il punk l'arcore punk rock insomma tutto il bollirone di roba veloce che mi tenga sveglia e concentrata quindi dentro ci sono tipo i germs i black flag gli agent orange gli adolescence i descendants i minor threat i dead kennedys bad brain gorilla biscuits gli addicts i sham i nabat insomma c'è un sacco di roba insomma tutta quella roba veloce violenta che a un certo punto mi dice al mio cervello Tiffany svegliati ok e ogni tanto quando devo anche dare il turbo al lavoro metto la stessa playlist così finisco il lavoro in mezz'ora e poi sono esaurita 17 una canzone che ti ricorda la tua infanzia ah vabbè sicuramente è dei Ramones perché io sono cresciuta a Pan e Ramones e direi o Judy is a Punk o Sheena perché è insomma una delle due che è rimasta nel cuore 18 quale canzone nessuno si aspetta che a te piaccia ecco forse una cosa che passa pochissimo ma ci sta perché io sono più appassionata di rock però non solo è che a me piace un sacco l'R&B l'H-pop e il rap soprattutto quello un po' più storico classico direi che è una cosa un po' strana però diciamo dagli anni fine anni 80 a metà anni 2000 metà 2005 2006 ecco mi piace proprio tanto come filone come genere eccetera che sono tanti i generi però insomma tutto quello e la mia cantante preferita dopo Suxy è Alia che purtroppo ha una storia tragica morì in un incidente aereo eccetera il suo pezzo preferito che amo di più è We Need a Resolution che aveva un video bellissimo diretto da David LaChapelle e lei era bellissima e bravissima mi piace molto e curiosità se siete fan di Anastasia lei era la voce del cartone lei era la voce americana che aveva fatto tutti i pezzi quindi insomma il wiki non richiesto c'è anche qua 19 quale canzone metterai il giorno del tuo matrimonio visto che ho già dato tipo a giugno dell'anno scorso la nostra canzone è stata Teenage Kicks degli Undertons che è proprio il nostro pezzo ma per tanti motivi perché è un pezzo al quale siamo legati per tanti momenti vissuti insieme con questa canzone è tutto tranne con un pezzo d'amore io poi lavoro nei matrimoni e di solito ormai tutti gli anni si sentono sempre le stesse a rota e non lo so Teenage Kicks è proprio è un pezzo che io amo e tutte le volte che va su io sono felice siamo arrivati alla fine e la ventesima domanda dice quale canzone metteresti al tuo funerale allora io penso sia quasi doveroso che al mio funerale ci sia Space Oddity di David Bowie però mi conosco e vorrei che fosse una festa fondamentalmente cioè nel senso vorrei che tutti si sbronzassero e non fossero tristi cosa impossibile cosa che è sempre difficile quando si parla di funerali e quindi forse oltre a Space Oddity sono sempre un po' indecisa tra Life on Mars e Rebel Rebel non lo so cioè comunque David Bowie perché per quando esci di scena devi avere qualcosa di magnifico non lo so poi io non mi ci vedo così grandiosa la cosa però in realtà Bowie è la perfetta uscita di scena probabilmente non lo so insomma ok siamo arrivati alla fine è stato lunghissimo imbarazzantissimo e la mia dignità ora è ufficialmente finita quindi io spero che questo video che esula ovviamente del tutto dal mondo dei libri ma che parli di musica in maniera un po' poco seria e poco professionale però sia stato piacevole e divertente giù nell'info box chiaramente trovate i link a tutti i pezzi che vi ho elencato e tutte le band che vi ho elencato il mio account Spotify se mi volete seguire che ci sono un po' di playlist un po' di robe varie ed eventuali e niente io chiaramente ho piacere di condividere con voi quella che è forse la mia più grande passione è sempre un po' difficile capire come farlo perché non tutti ascoltano musica però il mio obiettivo è fondamentalmente quello di spronarvi anche ad ascoltare più musica perché mi fa veramente piacere portarvi ai concerti cioè convincervi che andare ai concerti è una cosa bellissima e quindi niente spero che questo video vi sia piaciuto che vi abbia tenuto compagnia in maniera molto imbarazzante e direi che ci vediamo al prossimo video ciao ciao